Buongiorno, siamo pronti? Siamo pronti. Stiamo facendo la settesima edizione. Anteprima? Anteprima delle faccianelle, sì. Buongiorno ragazze, siamo pronti? Buongiorno ragazze, bellissimi i vostri costumi, come sempre. Hai preparato tutti? Sì, Positano News. Sì. Ti ho visto da Maria Laura, io sono amico di Maria Laura, di Sergio, alla Maison, la sera del concerto. Perfetto. Giusto? Giusto, giustissimo. Fatevi vedere, fatevi vedere. Facciamo quest'anteprima dalla sala consigliare di Sorrento. Poi ci sono anche i più grandi. Bellissimi. E voi che cosa fate? Che rappresentate? Come siete vestiti? Da pastorelli. Da pastorelli. Ciao. Saluta. Saluta, saluta. L'ingenziere. A me no, grazie. Siamo pronti? Sì, siamo pronti. Lei? Maggioro. Maggioro. ah questo con la faccia scura non lo conosciamo eccone un altro che arriva anche lui sarà un maggio no? no 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 e l'altro due ce ne manca eccolo qua l'altro maggio eh sì l'avevamo visto ma i maggio non sorridono ah ecco grazie